Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita alla barriera di Pisa Nord in direzione Pisa. Sul raccordo a 12 FIPILI, un chilometro di coda all'incrocio San Piero a grado Tirrenia in direzione Pisa Centro. In A1 fino a domani tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. In Garfagnana fase finale per i lavori sulla strada regionale 445 in località Coreglia. Da domani per 15 giorni la strada provinciale 57 sarà chiusa al transito per consentire di collegare il nuovo tratto stradale realizzato alla viabilità esistente. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!